Durante un controllo del territorio i carabinieri forestali della stazione di Petiglia Policastro hanno localizzato due mandre al pascolo, peraltro senza alcuna sorveglianza, nella località Serra di Paola del comune di Cotronei. In seguito ad accertamenti sono riusciti a risalire alle titolari degli allevamenti, due donne classe 1963 e classe 1965, nate e residenti a Cotronei. In tutto sono state rinvenute al pascolo 41 bovini adulti più 8 vitellini. L'area in esame è sottoposta al vincolo per scopi idrogeologici e paesaggistici ed ambientali e ricade nella zona di protezione speciale ZAPS, Marchesato e Fiume Neto. Una parte dei bovini era intenta a pascolare in un'area percorsa dal fuoco. Il pascolo nelle aree bruciate non è consentito dalla legge quadro sugli incendi boschivi perché è suscettibile di provocare danni al soprassuolo interessato dalla rinnovazione naturale della vegetazione. Nel corso degli accertamenti è stato appurato che le allevatrici avevano presentato domanda per la concessione dei terreni al pascolo ma non avevano corrisposto il canone annuale dovuto. Le domande pertanto erano prive di effetti. Le due allevatrici sono state deferite alla procura della Repubblica per pascolo abusivo. a 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